Ok, sono le 4 e un quarto, mi trovo a 2800 metri sugli stabilimenti Natuzzi, a nord di Melfi. Come si vede a nord c'è una terribile incudine dalla quale siamo andati via, e a sud-est verso Grumetto, adesso tra un attimo se ne vedono altre due, e quindi sono costretto a deviare verso ovest puntando Ponte Cagnano e poi deciderò.